Samu, credo sia sempre giusto mettersi in gioco e so che non hai problemi ad affrontare sfide, visto che ti ritieni un bravo ballerino all'altezza di tutto. Ho pensato che dare a te una variazione di repertorio classico possa essere una bella occasione per dimostrare la tua completezza. Ti sfiderai contro Ramon, danzatore davvero eccellente nella sua materia. Sappi che ho scelto te perché so che hai studiato classico in precedenza e quindi sei avvantaggiato rispetto ad altri compagni. Perché Ramon affronta l'hip hop che non ha mai praticato in precedenza ed è sicuramente svantaggiato rispetto a te. Dovrai eseguire la variazione del corsaro. Vedremo tutta la tua tecnica, il tuo stile e la tua eleganza.